Buongiorno mondo, come andiamo? Questa mattina mi sono alzato un pochettino prima perché vi voglio far vedere un posto che ho scoperto ieri che secondo me è da venire a visitare mi sono alzato un pochettino prima proprio per venire a vedere l'alba da qua guardate questa panchina che praticamente è stata costruita proprio apposta secondo me costruita per venire a vedere l'alba e non solo diciamo che da nord a sud ci sono delle panchine in posizioni molto particolari per esempio c'è la mia panchina al codiglio che è sopra, è vicino alla torre del Tostone intanto salgo dove c'è praticamente la vista dell'oceano e di piedra playa ce n'è anche qualcuna a sud come quella di Sotavento diciamo che la vista da qui non è male questa è la panchina ecco qua si vede tutta Coraleco tutto il porto adesso mi metto seguito 10 minuti e mi godo l'alba sono le ore 7 e il sole sta sorgendo vedete quella pallina lì rossa quei puntini rossi purtroppo le nuvole lo coprono un po' per rispetto però iniziare comunque così non è mai male la giornata diciamo che ieri quando l'ho vista questa panchina ho subito messa tra i punti secondo me da da tenere sempre a mente non è sicuramente come quella del codiglio però è comunque una panchina che vale la pena soprattutto all'alba e forse anche al travolto si ha proprio diciamo punto di vista fantastico e anche se le nuvole ci hanno tolto diciamo il bagliore dell'alba comunque anche così con questi colori non è male io vi saluto vi mando un abbraccio mi raccomando sempre positivi ci vediamo presto da Fuerteventura ciao ciao